Sì, sì, sì. Scusate è difficile arrivare lungo sai che non è rovinato il casco da 300 euro 300 euro mi ha detto che a 110 io lo vendevo io guadagnavo 30 euro capito Ale? è più difficile che arrivi lungo io l'ho pestato tutto lo prendiamo noi basta quando mi ha buttato di sotto sei fortunato quando mi ha buttato di sotto a me me ne serve uno vecchio di casco vedi la differenza del mono anche il montese visto come ha picchiato Tume li ha riattaccato subito e andato via non devi prenderlo sotto prenderlo sopra lo spingolo hai dato una gommata no no gomma puoi provare? la gira a cerce TRS ti pianto dove è davanti? non ti pianto sotto il colpo che hai preso non ti convince tanto neanche a te senti il sasso come pianto li lascia sta va ma perché è una Repso? vai no perché è una Repso la Repso è più indietro la Repso è buona sulla scuola a clean drink